King Nick Vediamo quanto morirò male stavolta Zuali e Raffaello Esattamente al 27 e 26 Troppo Io non mi ricordo però cosa è effetto contro cosa Meglio così Oh vai Il 27,4% di vita ti ho tolto Zuali Ma oddio c'è anche la percentuale fa vedere Sì del tuo nemico ti fa vedere la percentuale Che cosa brutta Allora cosa potrei usare Allora Tutto Tanto lo sappiamo che vinci te Quindi Cerchiamola di gufare Non la sto gufando Sto solo dicendo la verità Lo sanno anche tutti i nostri spettatori Visto Io ho dovuto fare i magheggi Per riuscire a buttartene giù uno E te ne hai già buttati due giù praticamente Boh Non so che gioco a cui stai giocando te Te pari ma Vai grandpa Vai grandpa Ovviamente Ma porca puttana Come fa a farmi 33 uppercut Su lost È potentissimo È potentissimo Troppo Paura potter Sì Boh Facciamo così Poi facciamo Così Oh no genki Maledetto Bastardo Ecco Uh È andata bene Allora Su pig e pic Così se muore Non mi porta via uno Ma pig e pic È letteralmente lì Per fare numero Va bene Ci proviamo comunque ad attaccare No Ma sta addormento Va bene così Eh ma tanto windburst non fa un cazzo Quindi Lo c'ha bullo Sì lo so Ok genki non è più addormentato Che faceva bullo? Non me lo sono perso Eh mi aumenta Le statistiche In caso Abbia più temtem Nella squadra Cioè aumenta il danno Che faccio Se non sbaglio Se ho più temtem Nella squadra Del mio avversario Siamo pari Ah no L'hai più Sì sì L'hai mandato io Guarda Sì Dai Su Su Dai 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 Scelta sbagliata Eh lo so Immagino Ok Cosa potremmo fare Tipo uccidermi tutto Quello che ho E niente Umishi Speravo che tu fossi almeno leggermente più veloce Però è È una delusione questo Umishi Cos'è che mi hai già buttato giù te Eh 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 Cosa Sì Raffaello Saipat Aspettiamo Qui è ovvio cosa farai tu però Ecco Ecco No Non te l'ho shotto mica tanto Eh fai Ma vaffanculo Genki Tutte le volte così Vaffanculo figlio di troia Pig e pic potevi morire Eh Non sono morto È morto da solo Sti idiota Ma tra l'altro non mi sembrava che fosse Vabbè Ho sbagliato a fare i calcoli Oh Culluale Sono messo veramente troppo male Pensavo tu lo cambiassi in realtà Eh vabbè E io ho detto oggi Sì ma questa veramente la perdo ancora peggio dell'altra Io ne ho solo tre Tu ne hai ancora cinque Quattro Vinticinque ne hai Cos'è sintesi? No Non lo so però volevo usarla Pensavo che ti curasse i cosi No mi ridà I punti di Tutta la barra Però è un po' che la volevo usare E ho detto la usa Ok Ah Interessante Potremmo avere una situazione molto svantaggiata Per me sì Per me sì Sono assolutamente in posizione di svantaggio No mi devo fare due calcoli Se no muoio Ma tu è gopo al 100% ancora dai Che culo Non mi ricordo neanche cos'è l'ultimo E se te l'ho danneggiato No l'ultimo non è neanche asceso in campo Se no te lo ricorderesti Ok Ah perché cosa? È l'evoluzione di fomo No No Maledetto bastardo Dunque appunto i miei sono mezzi morti Mezzi distrutti Quindi Eh ma anche i miei Oh qui a me dà che a te avresti finito il tempo Eh però Sullo ali Mi è messo freddo Ho cliccato il primo che mi è capitato Oh bene Eh Va detto che Ti dava 0 secondi Nel mio coso Nel mio schermo 12 e mezzo Da Pou A livello 43 Allora No va bene così Potevi sopravvivere No eh No Moriamo così E ora Io ora cosa dovrei fare Scusa eh Devi patire Beh muoio senza Senza possibilità di Di ribaltare la situazione Perché È l'unica cosa che posso fare Ma guarda te Ma guarda te E niente Io l'ho detto per tutta la battaglia Che sarebbe andata così